Gabbia esce tra tifosi rossoneri come il capitano del futuro, la depressione di Morata, infine l'agente Ita Hernández sconfessa la gazzetta dello sport, tutto questo dopo la sigla. Ciao a tutti e benvenuti a questa nuova puntata del Caccio secondo Giovanni, vi ricordo di mettere un like al video, vi ricordo di iscrivervi al canale, è completamente gratuito, basta cliccare sul tasto iscriviti e attivare la campanella. In questo modo sarete aggiornati su tutto ciò che riguarda il Milan in tempo reale, alcune volte anche in anteprima, attraverso le nostre rubricche giornaliere, attraverso le nostre live martedì e giovedì sera, la proposta stasera alle 22 nuova live, mi raccomando tutti presenti, infine attraverso le nostre pre e post partite di tutte le partite del Milan, vi ricordo inoltre che potete aiutare il canale tramite donazioni e abbonamenti, 5 tipologie di abbonamenti a partire da 99 centesimi al mese e potete anche interagire con il canale tramite la chat durante la remissione del video e a fine video lasciando un commento a cui cercheremo di rispondere il prima possibile. Parliamo oggi di argomenti di oggi, quindi partiamo da un sondaggio che ha fatto la Gazzetta dello Sport su chi dovrebbe essere secondo i tifosi rossoneri il nuovo capitano del Milan e c'è stata la maggioranza che si è espressa per Matteo Gabbia, perché viene visto secondo me come l'unico italiano rimasto perché comunque ha cercato di fare il meglio possibile, ha fatto abbastanza bene anche in partite controverse come quella di Firenze. Certo che l'evoluzione della considerazione di Gabbia presso i tifosi milanisti è molto cambiata, ricordiamoci che nemmeno un anno fa Gabbia veniva considerato una disgrazia per il Milan o quasi a livello di Calabria dei giorni peggiori. Poi da rientro ai Villarreal effettivamente abbiamo visto un altro Gabbia, sicuramente molto più convincente e molto più sicuro di se stesso, che piano piano è riuscito a entrare nel cuore dei tifosi rossoneri fino addirittura ad essere proposto come il capitano del futuro del Milan. Altro racconto interessante fatto sulle coloni del Corriere dello Sport da un'intervista di Morata a microfoni di Coppia, una trasmissione credo spagnola, cui spiega appunto il perché abbia deciso di lasciare normalmente la Spagna per l'Italia per il Milan. Diciamo che Morata ha detto che ha avuto diversi problemi personali in Spagna, di essere stato, di aver sofferto depressione e di aver partito particolarmente le critiche che gli sono stati mossi a lui durante le partite dell'europeo. Dice, testuale parole, quando attraversa i momenti davvero difficili come la depressione o gli attacchi di panico, non importa quale lavoro fai o in quale situazione ti trovi nella vita, è una persona dentro contro cui devi reuttare ogni giorno e ogni notte. Quindi è andato via poi dalla Spagna per questo motivo qui, per allontanarsi dall'ambiente per lui tossico e andare in un ambiente in cui forse c'è più fiducia verso di lui, a meno per il momento, perché anche in Italia sappiamo benissimo che le opinioni cambiano a seconda delle partite, a seconda dei momenti, quindi attualmente sicuramente Morata è considerato uno dei giocatori che si sta più dannando per cercare di tirar fuori i risultati positivi da questa stagione, sicuramente per ora ha trovato sicuramente una situazione molto migliore a livello personale rispetto a quello che aveva in Spagna. Ma quello che mi interessa sottolineare oggi è la smentita netta fatta dall'agente Ita Hernandez su un articolo della Gazeta dello Sport di ieri, in cui si diceva, si sparava a piene pagine, da parte di Ramazzotti mi sembra, che Ita Hernandez avrebbe chiesto 8 milioni di euro per il rinnovo del contratto. L'agente Ita Hernandez, dopo interviste fatte da giornali nella giornata, ha partecipato ieri sera a Tele Lombardia, a trasmissione abbastanza vista, parla che non c'è stata nessuna trattativa per il momento, non parliamo di niente da 4 mesi con la società, da maggio-giugno. La società mi ha contattato, ci hanno chiesto se il giocatore volesse rimanere e si era contento a Milano, gli ho detto di sì, è molto legato alla città, molto ben ambientato nel calcio italiano. È felice qui con la sua famiglia e con suo figlio. Teo è al Milan da sei anni, i fatti valgono più delle parole, non abbiamo nessuna proposta sul tavolo, non abbiamo nessuna offerta da parte del club. E c'è poi una domanda, dice, ma è vero che la richiesta è per rinnovare di 8 milioni di euro? E risponde la gente, l'ha detto Teo? No. Io ti rispetto per il lavoro che fai, gli dice agli giornalisti, ti dico la verità. Ciò che dice questo giornale, cioè la Gazzetta dello Sport, lo ha detto Teo? No. Non sono parole uscite dalla bocca di Teo. Qualcuno lo dice in giro per condizionare l'opinione pubblica e chiaramente non siamo noi a farlo. Quante volte ho chiamato io un giornalista lì in Italia? Mai. Per il tuo lavoro quello che faccio io è aiutarti, non ingannarti. Quindi una dichiarazione bella pesa, diciamo, verso la Gazzetta dello Sport, che si allaccia un po' a un video che ho visto ieri di Marietto che riguardava un giornalista che diceva che il fare, il creare articoli negativi, in questo caso sul Milan, fa sicuramente più possibilità di vendita e visualizzazione rispetto a creare articoli positivi. Quindi lo sparare che Teo Hernandez vuole 8 milioni non è altro che un'ennesima situazione che viene creata appositamente da giornalisti e giornali per vendere più copie o per fare il proprio articolo. In realtà non esiste niente di vero in questa cosa. L'ennesima notizia fake stampata dalla Gazzetta dello Sport, l'ennesimo articolo inventato, ma va bene tutto, perché smettite non ci sono mai. E questo è il tipo di giornalismo che a me dà fastidio. Non è tanto, perché ancora mi hanno criticato, anche giustamente, forse dal punto di vista loro, di continuare a stare insieme alla società e soprattutto di alcune volte accusare altri youtuber. Io cerco di dare notizie che siano vere. Mi vado a controllare le notizie, vado a vedere se effettivamente sono state dette certe cose, se sono state riportate in modo giusto, eccetera. A me non piace quando le notizie vengono buttate lì, senza un controllo, alcune volte anche dette malamente in modo falso per appoggiare le proprie tesi. A me questo non piace. Poi uno ha diritto di critica, ci mancherebbe. Anche perché, come ho detto, io non sono un direttore sportivo, non sono un allenatore, non sono un giocatore, non sarei qua, sarei da altre parti. Quindi è giusto che ognuno abbia la propria opinione. Però adesso è un'opinione basata su dei fatti reali, non su dei fatti inventati. A me questo dà fastidio. Quindi youtuber che inventano notizie, o danno notizie sbagliate, o fatte ad arte per creare un appoggio alla propria convinzione, a me non piacciono. Punto. E quindi continuerò a criticarli. Due punti. Basta. Io non voglio ritenermi superiore, eccetera, ma a me dà fastidio gente che mette in giro delle notizie che non sono vere. Uno può anche non dirlo, cioè che bisogno c'è di dire delle notizie che sono false. Uno esprime il proprio pensiero, che può essere critico, io posso non essere d'accordo, ma questo ognuno è il pensiero del libero e quindi ognuno è il libero di pensare quello che vuole. Ma mettere e dare in pasto alla gente notizie non vere, facendole passare invece per la verità, a me non piace. E questo è uno dei casi. La Gazzetta dello Sport apre un articolo ieri in prima faccia, mi ricordo benissimo, su gazzetta.it di Teo Hernandez che chiede 8 milioni. Io ho sempre detto che Teo Hernandez rimarrà a Milano, avrà lo stipendio che le ha 5 milioni più bonus, così come avrà Mignano. Punto. Non avrà di più. Quindi 8 milioni di richieste sono assurdi, ma ricordatevi anche Leao si chiedeva 10 milioni, no? Ricordatevi? Gli articoli sui giornali 10 milioni. Quindi sono notizie che vengono inventate. Perché vengono inventate? Perché vendono meglio, perché hanno più visualizzazioni, hanno più soldi che entrano nelle proprie casse. Punto. Questo è il discorso. La verità, sinceramente, purtroppo non sta in quasi nessun giornale. Poi c'è l'ultima ipotesi. Cosa succederebbe se non dovesse rinnovare entro giugno? Il calcio è il calcio. È tutto molto rapido. Ogni giorno le cose cambiano per mille dettagli che ci sono nel calcio. Oggi posso dire che l'idea principale di Teo è continuare nel Milan, trovare un accordo e restare il più tempo possibile con il Milan. Desidera crescere il più possibile con il Tebre, crescere con la squadra e fare il miglior campionato possibile. Cosa succederà in un anno? Non lo so. Non voglio mentirti, non lo so. Però se questa situazione di una possibile partenza entro un anno potrebbe non accadere se il giocatore rinnova, se prolunga il suo contratto. Se fa un prolungamento il contratto, questa situazione non accadrà. Ora, se in quest'anno, per le circostanze che ci sono, non si prolunga il contratto, che succede? Ti mentirei. E non mi piace mentire. Non so cosa potrebbe succedere. Però l'idea in questo momento, qui e ora, è che Teo è felice al Milan. Punto. Queste sono le dichiarazioni della gente di Teo Hernandez. Quindi, anche qui, non sono vere le notizie o le insinuazioni che Teo Hernandez non sta bene al Milan, che è avverso che adesso vuole andare via. Perché Teo Hernandez ribadisce attraverso il suo agente che lui sta bene al Milan. Lo disse anche Ibrahimovic tempo fa, che non c'è un pool bank, che tutti sia Mignano che Teo Hernandez stavano bene al Milan. Cioè, c'è comunque niente a fare contrattazioni. Sulla base, però, positiva. Poi, Teo Hernandez deve darsi una regolata a livello caratteriale, perché non può agire come ha agito in questi inizi di campionato. Ma anche lo scorso. Sette ammunizioni in otto partite. Quest'anno, lo show di Roma, con la Lazio e questo altro show contro la Fiorentina. Purtroppo, per le prime otto partite, Teo Hernandez dovrebbe farle saltare, perché non c'è con la testa, sembra. Quindi, se Teo Hernandez ritorna a essere un giocatore serio, concentrato, in cui vede che le prime cose da fare è il bene del Milan e il bene personale, benissimo. Se invece continua a essere, o si ripropone come il bulletto del quarterino, è bene trovare una soluzione e cercare di venderlo il meglio possibile. Vi ricordo, sabato alle 22 ci sarà la prima live di Soccer Zone, mia e di Stefano insieme a parlare di calcio, anche di Milan, ma non solamente di Milan, anche delle altre squadre. Quindi, se vi va, vi invitiamo a vederci sabato prossimo, che dovrebbe essere il 12, 12 ottobre alle 22, la prima live di Soccer Zone 360. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Io vi ricordo a questo punto, alle 22 stasera invece, la live di DNA Rossonero TV. Noi ci vediamo domani alle 18.30 per il mio nuovo video. Vi lascio, come il mio solito, auguri di buona giornata e con il mio solitissimo Forza Milan. Ciao a tutti e buona giornata a Giovanni. Grazie.